Ciao, papà. Ciao. Cerca lievito per dolci? Sì. La mamma ti prepara una torta? No, mio papà. Bimbo fortunato. John, la tua situazione è molto particolare, ma c'è un limite a quante famiglie possiamo valutare prima di decidere. Un giorno, Michael, ti piacerebbe vivere da un'altra parte, in una casa diversa? Mi piace casa mia. Al figlio serve la madre. Vorresti avere una mamma, Michael. Che cosa vuol dire adottare? Quando una mamma e un papà non possono occuparsi di un bambino, e allora lui va a vivere con dei nuovi genitori. Io credevo che avrei capito. Questi no, questi vanno bene. Ma che succede se sbaglio? Vediamo quanti sassi riesce a mettere nel camion. Ho sempre pensato di conoscerlo bene. Ma davvero lo conosco bene. Abbastanza. Per questo. Buonanotte, Michael. Grazie a tutti.